F1, prove libere 1 GP Bahrain, Perez, Leclerc quinto e Sainz ultimo. Roma la Ferrari non impressiona nella prima sessione di prove libere al Gran Premio del Bahrain. Prima tappa stagionale della Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi con gomma gialla, chiudono rispettivamente in quinta e ultima posizione. Non c'è però da preoccuparsi. Essendo stata l'ora sul circuito di Sakhir dedicata soprattutto alle sperimentazioni in vista dei due giorni successivi per il weekend di gara. Lo spagnolo, nella seconda parte, si è reso protagonista anche di un testacoda senza alcuna conseguenza. Al comando c'è la Red Bull di Sergio Perez, che precede la Aston Martin di Fernando Alonso e il campione in carica Max Verstappena. Gli altri tempi quarto tempo per la McLaren di Lando Norris appena davanti alle Ecclerc. Seguito in sesta posizione dall'Aston Martin di Lancestrol. Settimo crono per la AS di Kevin Magnusson. Davanti alle due Alfa Romeo di Magnuccio e Valtteri Bottas. A chiudere la top tence è la Mercedes di Lewis Hamilton. Mentre il suo compagno di squadra George Russell è undicesimo. Appuntamento alle ore 16 con la seconda sessione di Prove Libere. Virgola